un nuovo video oggi sono insieme al mio amico ricky giorgi e oggi siamo oggi siamo youtuber anche se sono anche nella vita reale chiudo il garage che questa cosa serve solo per fare l'intro e da dove si entra in sta casa apri devo entrare non aiutami aspetta che mi metto lavoro dello youtuber se siamo ricconi non sono neanche nell'ottoriale vabbè lasciamo stare la piscina lo scivolo lo scivolo in casa se voglio provare questa quella casa che volevamo rapinare io e delia io non nello scivolo si lo so mettiamoci il costume e lo so io me lo metto blu dove ti te lo nero e vabbè vado aiuto mi sono seduto sul fondo ciao ricky perché ti sei messo maestro se ho visto che figo aspetta no no che non lo fa una cosa per un cacato salgo lo scivolo salgo lo scivolo se sono dentro casa io mi faccio un altro asciugato mi metti roommate mi fai roommate non me lo metti dai ok ok allora noi qua siamo per fare gli youtuber non siamo per andare in piscina aspetta aspetta però noi dobbiamo creare lo studio devo creare la casa studio e la sedia però che bella qua mi metto io in costume e faccio i video in costume no no dai questa è la mia postazione dobbiamo creare lo studio però aspetta io mi metto sempre le gioco aspetta io mi metto sempre le giordano metto sempre le giordano ecco sto bellissimo ma dobbiamo creare lo studio noi io sto acchierando un gioco sto acchierando no 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 non acchierare non acchierare sto acchierando l'accante di samuele no 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 io poi non posso più registrare no grazie e poi non posso fare il video con te ma io voglio dire perché non me la mostriamo bene questa casa ok e andiamo giu andiamo giu andiamo giu allora la faccio io perchè casa è mia no ragazzi allora Allora scrivetemi nei commenti chi è più... togliti. Dai togli il telefono. Allora commentate e vedete chi è quello che è vestito più lusso. Cioè sicuramente io perché io ho la collana dorata con le Jordan. Tu neanche sai cosa sono le Jordan. Allora vedi ma cosa mi metto. No 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 ormai ormai no 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 se non ho detto più io di lusso. Poi tu mi hai copiato pure gli occhiali. Tu non li porti gli occhiali. Ti ricordo che tu avevi quelli di Harry Potter. Io questi concili avevo da quando mi sono fatto la prima scrivo. Vabbè comunque scrivete nei commenti chi mi piace. Scrivete Ricky Giorgi se è lui vestito bene o quale scrivete Zero Samuele se sono vestito io o meglio. Sicuramente io. Perché quale è? Io posso fare pure lo scivolo. Posso fare pure lo scivolo di notte. Guarda. No non mi fa scivolare. No mi sono rotto. Io non mi sono veloce. No dai. È chiuso. Eh lo so. Cosa ci spacciamo la testa? Vai. Ci è andato col backflip. We are the champion my friend. No no no. Vedi che lo so fare anche io. È bugia. È bugia. Sto brutta persù. Yeah yeah. Ho aperto lo scivolo. Giuro che tolgo la piscina. Uiii. No mi ha chiuso fuori. Aiuto. Sto bloccato. Ok buongiorno. Ma ti ho dato la piscina. Vabbè. Dettagli. Comunque in questo video cosa dovevamo fare? Niente. Gli youtuber. Io sono con l'overboard così avrei vinto. Gli oscurano e giù. Tocco la piscina. No. 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 Aiuto. Non posso più salire. Ok ok. Non so vivo. So vivo. Ciao. Ci andiamo a fare un giusto con la mia macchina? No. Andiamo con la mia macchina. Ancendiamo. Ci andiamo giù. Andiamo di qua. Ci mi butto. Andiamo nel garage. Nel nostro garage di lusso. La Bugatti. Perché avevi messo l'overboard. Vabbè sali sulla mia macchina. Super. Sali sulla mia macchina. Aiuto. Non mi fa sedere nella macchina. Perché? Vabbè non prendo la macchina. Vedo la mia. No no. La mia è di lusso. Tu hai la Bugatti brutta. Andiamo. E vabbè. Me la fai guidare a me? Non so se la sei guidare. Ma troppo veloce. Perché mi sei buggato e non mi fa salire nelle auto? Aspetta. Mi resetto il personaggio. Non mi è successo che quando l'avevo resetato non mi faceva più guadire. Io che ero devo timetoso molto. No. Dai. Oh non mi fa morire. Quello che è successo a me l'altra volta. Guarda. Guarda. Mi sento che devo fare un blackout. No. Ricky mi prendi. Perché mi hai messito. Aspetta. Provo a fare il backflip. Guardami. No. Guardami. Guardami. E guardami Ricky. Guardami dietro. Guardami. E ragazzi ci vediamo tra poco perché mi sei buggato. Mi sei buggato. Devo uscire dal gioco. Ragazzi ci vediamo tra poco. Ragazzi ho sistemato il bug. Adesso siamo nella Bugatti. Dove andiamo? Andiamo nel nostro aereo di lusso. Sarebbe? L'aereo dell'aeroporto. Comunque ragazzi ora vi ho visto questo. Dici lei che faremo un altro video con Samuele. Sei io con te? Cioè il canale è mio, non è tuo. Lo so. Ah ok. Andiamo. Non lo so se vuoi. Non lo so se loro lo sanno. Questa cosa. Ma non prende quello della polizia. Metti quello. Così. È perfetto. Andiamo. È molto grata. Aspetta. Ricky. Scendi giù. Io mi butto. Mi devo mettere le... Mettiamoci le cuffie. Mettiamoci le cuffie nell'avatar. Vedi questo è qua. Questo è qua. Capito? Per parlare. Scendi giù. Devi mettere le cuffie. Qua c'è un'altra persona di lusso. No. Cosa hai fatto con l'elicottero? Mettiti queste cuffie. Vedi? Per parlarci nell'aereo. Io mi metto altri. Non con le spazie che hai detto. Mi metto altre. Quale con i robot? Io comunque mi faccio alto. Mi metto alto. Mi metto alto. Sì. Perché è viola? Ma sono brutte. Perché viola sono... È muta. Non sono da femmina. Cos'è qua mica sono da femmina? Quelle che ho io. Ma ragazze me la metto pure io, viola. e voglio mettere pure... oh! voglio mettere pure io Samu lei l'elicottero sta per partire ok cinque no! quattro dai devo mettere le cuffie due no! no! si stanno per accendere arrivo! vai 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 ok andiamo andiamo verso l'infinito e oltre e poi ci buttiamo raga arriveremo nello spazio ma perchè tu non ti sei messo il lavoro dello youtuber? come? non ti sei messo il lavoro dello youtuber ah no! sono io quello che non c'è la perchè prima mi ero resettato raga comunque tanto che ci vediamo un bel po' in alto ci vediamo fra poco quindi ci vediamo eheheh! andiamo nella luna ragazzi ci andiamo fra poco e ragazzi ci siamo fatti almeno 20 chilometri in alto e lui ha la velocità 80 cioè quindi siamo andati che praticamente siamo quasi alla luna anzi no siamo vicini alla luna praticamente l'abbiamo superata sta per solare il sole vediamo il sole e la luna siamo l'unica persona che vediamo sta cosa raga al mio via ci buttiamo dall'elicota raga non voglio vedere dove andiamo tre no che dicio dito 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 due uno via io sono buttato dove sei più in alto di me no si è caduto ancora più veloce si vabbè ragazzi samuele cade tra 70 anni io sono già morto e no io adesso ho messo lo skateboard così cado più velocemente no 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 io sono nella casa quella abbandonata vicino sono sopra la casa abbandonata vicino ai campi di grano sto cadendo non credo che non credo che vado fuori no no non vado fuori mi devi dare un po' di tempo si si io sto cadendo nei campi di grano anzi no sono sulle montagne praticamente no no vai avanti con lo skateboard sono i confini del mondo credo che sto morendo credo che morirò no vedo tutto giallo vedo tutto bianco sono nell'universo sono da dio sono nel paradiso ah no sta piovendo sono caduto sotto sono caduto di sotto mi azzero il personaggio sta arrivando vedi che sono all'inizio ecco ecco tu dove stai io prendo l'ombrello e poi ci bagniamo gli vestiti l'ombrello c'è l'ombrello c'è l'ombrello dove stai tu? sto arrivando sto arrivando ecco ti io so questa persona con l'ombrello aspetta aspetta mi metto sotto che piove dove andiamo? aspettiamo che finisca la pioggia no andiamo a casa ok aspetta prendo la mia la mia lamborghini io sono già a casa quando sono veloce con il mio hoverboard ma che ti sei teletrasportato? ho fatto un salto aspetta arrivo oh sto qua sto qua sto qua oh andiamo andiamo in piscina yeah eh guarda la piscina attentamente con i led no mi butto no no sotto sono sotto al prato dove vedo il di sotto della piscina sto nuotando guardami vieni pure tu vieni pure tu sotto vieni sotto acqua togli il prato cioè togli la piscina ecco ecco quello che provo io benissimo è la nostra zona segreta mettiamo una scala metto una scala metto no 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 togli togli metto la scala sotto aspetta qua no togli 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 metti il prato oh oh basta sangue no mi hai messo sotto ho messo la scala yeah no la scala è sotterrata ma tu senti noi non siamo qui per guardare le scale no eh appunto mi dissocio no aiuto sono bloccato sotto la scala aiuto hai messo i led che figo e adesso togli l'erba no no che figo mi posso mettere sul prato togli la erba no no sono sott'acqua sto facendo no no sto facendo il sommergibile mi sono limitato di Samu perchè mi ero scocciato dai dai sono si può esci dall'acqua no rimango sott'acqua ti vado a prendere allora ma dove stai tu? io nell'acqua è bugia io 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 mi ero teletrasportato fuori dalla piscina e mo ero venuto da la infatti c'è la scala mia la dietro donna mia che youtuber madre che siamo raga eh vabbè tu con lo con lo io il monopattino elettrico guarda abbiamo facciamoci contenti yeah col monopattino elettrico e l'overboard ciao ciao abbiamo noi in fondo di cipromax cos 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 del robloxian aspetta saliamo andiamo a casa andiamo a casa ok dai ricchi sono andato sotto al prato guarda dai eh togli il prato oh grazie buongiorno sto salendo ecco si occhi sto eh togli metti il prato metti il prato metti il prato e e ragazzi noi concludiamo quel video concludiamo così abbiamo trovato la nostra come andare nella nostra zona segreta no a me non mi fa fare lo scivolo vabbè scendi normale e dai volevo concludere in bellezza no mi sono buggato nel muro nel muro aiuto ricchi aiuto aiuto ok no sto vivo aspetta aspetta no no faccio il backflip così poi altra passo vado qua mi butto e cado giù wiii ecco e metti la piscina no sei sotto eh ragazzi noi concludiamo così il video rimanendo sotto al prato e bravo con un selfie facciamo un selfie un selfie con un selfie vieni qua aspetta metto il monopattino metto la bici io con un selfie vieni ricky vieni qua noi concludiamo così il video e ci vediamo in un prossimo video e ciao